Ciao a tutti ragazzi, io sono Reocea qui su una nuova, allora andiamo già qua, avvia missione, ok, no, no, ok, allora, devi avviarla pure tu, Nia, parco tu, mi sono fatto il telefono, ok, praticamente siamo su un Minecraft Dungeon, per chi non lo conoscesse, praticamente Minecraft con delle missioni e visione all'alto, per me Nino è bellissimo, Poi, non dovete vederlo voi, ovviamente se vi piace lasciate like, commentate, non è vero, però mi piace, è che ho chiesto, era un regalo della mia pagella, perché la mia pagella è meravigliosa, ovviamente, come sempre, Allora, e praticamente, è un regalo della mia pagella, però io l'ho chiesto tipo tre mesi fa, e logicamente, ok, vabbè qua saltiamo, perché sennò mi scoccio, io, ok, Nino, tu sai, hai detto, devi saper giocare, aspetta, usa Rossellino Chat, vabbè, non mi serve, cosa è quella giravolta, come si fa la giravolta, come si fa la giravolta, Come si fa la giravolta, ma tu hai già l'accetta, ma, va bene, massacriamo tutti, ma non vale, Nino ha tipo la pistola, cioè, Mario, c'è una, aspetta qua, una, una caccia, dove, dove, non so se tu non la vedi, c'è qua, dove, non la vedi, qua, vabbè, la prendo io, l'ho presa, Eh, ma se l'hai presa, è normale, che non ci sta più, cioè, no, l'ho presa, ma, mò, l'avevo presa, ma tu già ce la vedi, Io già ti vedo, quella caccia, no, c'era un'altra caccia per la terra, forse non la vedi, perché sono di livello, troppo amassato, Oh, c'è tua bandadina, ma sei scemo, eh, me l'ho fatta, ma, massacriamo, lì, anche se doveva venire, anche qui, ma non c'è qua, Allora, arriviamo al prossimo checkpoint, e chiudiamo, cioè, non deve volare, troppi video, non ho capito, Mario, Allora, arriviamo al prossimo checkpoint, e chiudiamo il picco, cioè, però intendo, no, intendo, affiniamo la missione, capito? Eh, arriviamo a vittoria Sbagliato Ma io ho le enderpare, da quando ho le enderpare? Come ti vuoi fare? Eh, lo sapete, ma è da te? Dai, sì Che bello Allora, ragazzi, in questo video, sarà un po' incasinato, perché, due sono le cose, e alla fine dire, mizze, che abbiamo fatto da, quelli con la spada di ferro, sono fortissimi, ma si possono, ti può aggiornare le, le armi o le cose, con gli smeraldi? Eh, sì, con, eh, se premi, aspetta, non mi ricordo, perché io ho 73 smeraldi, sai, non è già Ah, no, con gli smeraldi, no, li devi trovare, in mezzo alla via C'è stata alta, io c'ho un botto di armi, che ti posso, ce l'ho, l'accetta Aspetta Eh, lo mettilo Eccola, ce l'ho, credo, sì Sì, ce l'hai Sì, andiamo, dov'è, di qua, di cerco, intanì, vabbè, io vado di qua Ma tu, quanta visuale vedi? Vi andavo di qua, dobbiamo andare di qua, vado, vedo la visuale come la vedi tu, terza persona No, intendo, se, tipo, io mi allontano, tu come vedi? Eh, sì, vedo la tua faccia Ah, ok, quindi tu vedi bene Fra, ma di qua, di cerco Io sono un creeper che l'ho ucciso Ah, io che male, mi sono ammazzato Cioè, sinceramente, su Minecraft Dungeon, se spari con l'arco, fa tutto lui Cioè, per fortuna Io ho l'arco con la, io c'ho la balestra Guarda Mi insegnava la balestra, è un po' scarso, eh Cioè, è più bello dell'arco Ma il mio è meglio dell'arco, vedi che è più fissuto dell'arco Eh, certo, è tipo una pistola, lo sto vedendo da me Ma io ho lanciato la bomba Io tu sei pazzo Cioè, ho capito, però, io l'ho lanciata strategica Tu no, aspetta Ma se, tipo, io già sto mirando, no? Come faccio a togliere Aiuto! Ho aumentato No, io l'ho incantata L'aiuto Anche il pane, perfetto Come ho già detto Ma scappami i ragni Non ho capito Sono infidi i ragni Perché, eccolo Aiuto! Ok Ragazzi, comunque abbiamo Cioè, ci sono tante serie che stiamo portando Cioè, però non Purtroppo non di seguito Perché se portavamo Tutte le serie di seguito Avremmo raggiunto 37 milioni di iscritti Giusto, Nino? C'è una trascia! Ragazzi, dobbiamo anche riprofumare Dopo dobbiamo fare anche... Dopo dobbiamo anche tornare a fare il video Colare il criminale Eh, lo so Ma Luca non ha il Minecraft Vabbè, lo farà... Vabbè, prenderà Luigi il po' di nuovo No, Luigi Luigi no Allora, ragazzi Allora Perché non conoscesse il criminale La nuova serie che stiamo vivendo? Andatela a guardare Secondo me può diventare qualcosa di figo Però Luigi non sa recitare Ci sa, per forza, Luca Ma Luca, logicamente Si è rotto Minecraft E sta in vacanza Quindi Non credo che sia una buona cosa Niva, dove dobbiamo Perché sei fermo? Nì, mi ha crashato Nì Non ci credo Eccomi Ma io 12 free Ci aspetta Io non ho due c'è Sotto oggi E spari a bitaglio No, perché sono infidi Schiva, schiva Ma le percizi comprano No Ci sono le cose Le storte E dove? E le trovi in mezzo alla mappa E dai Ma io non ho trovato niente Fra se le trovi Ce ne sta solo Giamo uno Eh, lasciate La mia frate Io non ho 12 Dove? Qua C'è una cassa Questa cassa Ma ci sono No, però Hai deciso Degli smeraldi Prendi l'arco C'è anche l'arco C'è un arco Dove? Ma come? Tu non vedo le armi Qua Ah, forse l'ho preso Aspetta C'è sopra C'è sopra C'è sopra Forse l'ho preso Vabbè l'ho preso No, non l'ho preso C'è un purceddu Un purceddu Ah, perché io non sono andato più avanti Di godine Ragazzi, vi devo dire che Si è aggiornato fifa Vabbè, non ci interessa Comunque abbiamo Io ho trovato un po' Diciamo in singolo Oh, Mario 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 Che forti è forte la mia ascia Guarda quando ti ne ho uccisi Oh, ma questo è fortissimo Ho poche frecce Un'ascia Ma se ti metti da dove? Ma io non le vedo le cose Vabbè Ma un po' si potrebbe fare Tipo le cose No Ma no Guarda la mia ascia Che fa combino Mi smerano Ma gli smerano Alla fine Quanto Eh, ho una spada Ho trovato una spada fortissima Ah, no Era, no, non è una spada Era, come si dice Un'incantamento Il villaggio Manca un villaggero Di qua Qua Trollo Dove è? Di qua, Nino Di qua Aspetta Sarà meglio Ci sbrighiamo Arrivo Ma io c'ho mille smeraldi Con mille smeraldi Ma io non Ma che se vuoi Gli smeraldi? Boh Non lo so A cosa sono mille smeraldi? Non mi ricordo Oh Fra, fra, fra Sono mortissimi Fra, ho niente di vita Mi sono curato all'ultimo Oh No, fra Qua ci Non ci E mo? Nì Cosa succede mo? Eh, sono stato morto Se mi riesci a curare è meglio Eh, ma dove, come faccio? Gisopini No, fra voi Sono morti Ora risponiamo Abbiamo due video Dove? Mi risponiamo Non so, non so Non so come anche Non mi ricordo Manca più cosa Servono Sinceramente Forse servono A comprare Forse Mi sembra Forse Mi sembra forse In migliore le armi No, non mi ricordo Non mi ricordo Se è migliore le armi Non mi ricordo Subito Così Vado al mio Pozzo del largo Non è questo Sai, io fugo Fugo Io non sto sparando a nessuno Perché ho la cosa ombra E quindi sono invisibile Non c'era più invisibile Spara, spara, spara 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 Schifo Vabbè, io sono morto No, no Mi stanno un po Come dire Eh, no Mi stanno un po Tenendo nel langoglio Eh, qua c'è un po Di gente Che dovevo la uccidere Prima di venirti a salvare Veni qui Dai Nino Sei qui Mancava 18 secondi Aspetta Le uccido Morite 13 secondi 10 Dai Fra Mi stanno sturando C'è un po Dai Fra sei qui 5 secondi 3 2 2 Sì Pura pura Buono Allora Non dobbiamo separarci Perché se non crepiamo male Ma tu non l'hai fatta Ma tu non l'hai fatta Sì Abbiamo vinto Forse le partite Che voglio Metto Vabbè E niente Ragazzi Questo video Può finire Qua Lasciate Iscrivetevi al canale Allora Ti avremo Una roba Detri P Ciao 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 Ciao